salve sono daniela di donato ciao sono anna di pace anna di pace è una docente universitaria insegna docimologia all'università di modena reggio emilia presso la facoltà di scienze della formazione primaria fa parte del team di ricerca sull'innovazione didattica del future education modena daniela di donato è docente di lettere dottoranda di ricerca in tecnologia ricerca educativa formatrice in didattica digitale processi di valutazione con le tecnologie e fa parte anche daniela del team di ricerca della future education modena quest'oggi vi parliamo di un tema di cui si discute moltissimo in quest'ultimo periodo il tema è il tema della valutazione scolastica la valutazione degli apprendimenti perché parlarne perché evidentemente in questo momento tutti si stanno un po chiedendo come possiamo valutare considerato che stiamo facendo una didattica diversa dal solito cioè una didattica a distanza è possibile valutare a distanza come valutare a distanza perché valutare quindi vi parliamo di una valutazione in prospettiva più squisitamente pedagogica allora oggi quando si parla di valutazione si parla evidentemente di una valutazione non quella classica non quella tradizionale ma dobbiamo guardare la valutazione in una nuova prospettiva e sicuramente quello che è importante fare è tenere presente quelli che sono diciamo i capisaldi della valutazione i punti fondamentali quelli imprescindibili e innanzitutto dobbiamo dire che la valutazione è una parte fondamentale non è l'ultima parte non è la parte finale di un processo di apprendimento ed insegnamento ma accompagna l'intero processo e quindi si focalizza intorno al modo di apprendere degli studenti e proprio per questo motivo è il motore dell'apprendimento la valutazione cioè attraverso la valutazione io posso motivare gli studenti perché perché con la valutazione io do dei feedback questi feedback devono essere sicuramente costruttivi devono essere delle indicazioni che possono aiutare gli studenti a migliorare l'apprendimento quindi la valutazione migliora gli studenti nella loro capacità anche di auto di autovalutarsi quindi la capacità di riflessione degli studenti quello che dobbiamo dire che la valutazione si sposta su tre macro aree l'area degli strumenti degli oggetti e la finalità della della valutazione rispetto agli strumenti dobbiamo dire che in questo particolare momento in cui stiamo facendo una didattica a distanza evidentemente gli strumenti che utilizziamo in maniera classica dobbiamo un pochettino rivederli e dobbiamo quindi fare riferimento a degli strumenti che guardano alla complessità dell'intera dell'intera personalità dello studente quindi non si deve focalizzare soltanto su delle specifiche aree quindi non un metodo analitico ma una visione globale della della valutazione tu che cosa ne pensi daniela penso che la valutazione sia un'attività che coinvolge sia gli studenti che i docenti e quindi non deve essere semplicemente ricevuta dallo studente lo studente deve partecipare all'attività di valutazione perché questo sicuramente lo aiuta nel suo processo di apprendimento sì tanto è vero daniela che si parla di una valutazione per l'apprendimento cioè non tanto una valutazione dell'apprendimento ma una valutazione per l'apprendimento cioè una valutazione che viene vista come una dimensione che in qualche modo aiuti gli studenti a migliorare il proprio apprendimento cioè diventa evidentemente una dimensione che può accompagnare il processo formativo tanto del docente come appunto dicevi tu quanto dello studente quindi dobbiamo fare in modo come dicevamo prima di mettere insieme due dimensioni la dimensione un po' più tradizionale con una dimensione alternativa una dimensione nuova della valutazione quindi non dobbiamo necessariamente fare riferimento ad un approccio specifico ad un singolo metodo ma dobbiamo cercare di mettere insieme tutti quelli che sono gli aspetti che la valutazione ci può e gli strumenti anche che la valutazione ci mette a disposizione per poter valutare in maniera formativa che significa valutare in maniera formativa significa che attraverso la valutazione fornisco appunto degli input allo studente e quindi permetto allo studente di non sentirsi abbandonato cioè io accompagno lo studente tanto è vero che si parla di una valutazione centrata sullo studente quindi possiamo fare riferimento a tutti quegli strumenti della valutazione che permettono di ad esempio fare una valutazione centrata sui compiti autentici di cui parleremo nello specifico una valutazione basata sulle rubric una valutazione basata sul portfoglio quindi una valutazione che permette allo studente anche di auto valutarsi e di valutarsi tra pari allora come avrete capito la valutazione autentica e la valutazione formativa saranno un po il cuore di questo percorso che vi stiamo proponendo è un percorso che vi porterà anche a raccogliere una sfida che vi lanceremo però attenzione a queste piccole pillole teoriche seguiranno anche dei momenti interattivi dove ci incontreremo online vi faremo utilizzare delle tecnologie per la valutazione e quindi faremo anche delle attività molto pratiche ma pillola teorica riguarderà per esempio la normativa italiana sulla valutazione ci vediamo presto ci vediamo online ciao ciao grazie grazie